Come tutti sapete sicuramente all'inizio di gennaio il legislatore ha emanato una disciplina sulle cosiddette professioni non regolamentate. Allora per capire la portata di questa legge e per poi porsi, cioè quindi capire la legge e porsi poi un pochino la domanda in questo contesto, cioè si applica o meno alla vostra figura, cioè alla figura dell'ottica, alla figura in particolare poi dell'optometrista, vediamo un pochino che cosa dice la legge, ovviamente nei suoi punti cadere, non vi voglio fare una roba noiosissima con tutte le norme che non vi interessa niente, ho cercato di mettere a fuoco quelli che sono i punti fondamentali. Allora la prima cosa che va capita è questa, le professioni in Italia, cioè nel termine professioni intendiamo un'attività di natura intellettuale, le professioni in Italia possono essere regolamentate o non regolamentate, cosa vuol dire? L'attività regolamentata è quella per la quale il legislatore è intervenuto con un atto di natura legislativo, regolamentare, insomma comunque è intervenuto dall'alto, fra virgolette, per stabilire il tipo di formazione, il tipo di attività e in alcuni casi, diciamo così, l'eventuale disciplina ordinistica o quale dei collegi. Poi esistono, diciamo così, sul mercato, in generale, adesso cercare di non pensare solo alle professioni sanitarie, pensate alle attività intellettuali in generale. Poi esistono delle professioni cosiddette non regolamentate, il che vuol dire che esistono di fatto sul mercato, perché ovviamente lo sviluppo tecnologico, culturale, la domanda da parte del consumatore, quindi ovviamente lo svilupparsi dell'offerta, fa sì che nascono delle professioni intellettuali per le quali il legislatore non ha ritenuto, o comunque gli interlegislativi sono ancora in corso, o comunque, per le quali comunque non c'è una disciplina legislativa che stabilisca la formazione e neanche la tipologia di attività. Vi faccio un esempio che non c'entra niente, ma giusto per capire. La figura del web design, cioè vent'anni fa non esisteva questa figura, cioè nel senso che non c'era nessun soggetto che disegnava i siti web. Oggi in realtà, ovviamente, dato lo sviluppo di internet, lo sviluppo della tecnologia, eccetera, c'è una pletora, scusate il termine, di soggetti che fanno i web design. Non c'è però una disciplina legislativa, cioè quindi nessuno ha detto il web design, come deve essere formato, che tipo di attività deve fare, quindi in un qualche modo la scelta la fa il mercato. Ci sono dei web design che fanno dei siti web, scusate il termine, pietosi, ci sono dei web design che in realtà, voi per formazione, perché sono particolarmente capaci, perché hanno fatto corsi di marketing e di comunicazione, fanno disegni di siti internet veramente bellissimi e molto accattivanti. Ho fatto questo esempio che non c'entra niente, proprio nel settore sanitario, proprio per darvi la misura del fatto che questa legge non è una legge che riguarda la sanità, questa è una legge cosiddetta orizzontale, cioè il legislatore si è posto l'obiettivo di dare una disciplina a tutte quelle professioni che in qualche modo non avevano trovato una disciplina di natura verticale, quindi disciplina legislativa. Allora, vabbè, l'articolo 1 dice che a professione non organizzata in ordine collegi di seguito nata, professione si intende l'attività economica anche organizzata, quindi non necessariamente, quindi anche, diciamo, di lavoro autonomo, di singolo, volta la prestazione di servizi o opere a favore dei terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante il lavoro intellettuale, cioè, diciamo così, la natura intellettuale, o comunque tramite il concorso, è l'elemento caratterizzante e che, diciamo così, che definisce la natura professionale. Allora, qui mi vorrei fermare un attimo, è molto importante per capire la legge capire che il legislatore, in questo caso, ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo modello legislativo, cioè, la legge è disciplinata in maniera completamente diversa, diciamo così, rispetto a quella che è la nostra abitudine mentale. Noi, cioè, noi tutti, cioè a partire da me, ma i giudici, ovviamente anche chi lavora, ma anche il consumatore, noi siamo abituati a una cultura giuridica di tipo romanistico, in cui c'è un intervento, adesso non voglio allargare troppo il discorso, ma secondo me questo aspetto è molto importante, in cui comunque c'è un intervento da parte del legislatore che dall'alto disciplina alcune cose. Negli ultimi 10-15 anni il nostro ordinamento giuridico ha avuto un'influenza fortissima da parte del diritto comunitario. L'influenza del diritto comunitario ha completamente scardinato i meccanismi, diciamo così, mentali e le architetture anche delle leggi nazionali. Guarda, questo è un aspetto molto, se vogliamo, da addetti ai lavori, ma che diventa poi fondamentale perché diversamente se noi non capiamo che ci sono alcune leggi che nascono, diciamo così, da un'influenza di natura comunitaria e che oggi il nostro ordinamento è fortemente influenzata dal diritto comunitario, anche in maniera indiretta, cioè anche quando non è che il diritto comunitario interviene a disciplinare direttamente, ma è proprio tutta la modalità di pensare che oggi non è più quella solo del legislatore nazionale. Noi dobbiamo assolutamente capire questo perché diversamente non capiamo perché questa legge è un po' diversa rispetto a quella alle quali siamo solitamente abituate. Allora, detto questo, la legge introduce un modello, se vogliamo, consentirmi un po' il termine un po' così a tecnico, di natura anglosassone, cioè nei paesi del nord Europa, non sto discutendo che questo sia giusto o sbagliato, sia chiaro, cioè io faccio il tecnico per cui non dico che è bello, che è brutto, che è fatta bene, che è fatta male, non è il mio compito. Cerco semplicemente di mettere a fuoco quello che è, diciamo così, le linee entro le quali bisogna muoversi. Nel nord Europa in realtà non esistono gli ordini professionali, esistono le associazioni, quindi i professionisti si associano liberamente all'interno di associazioni che possono essere più di una, quindi c'è una libertà, diciamo così, associativa, e l'associazione qualifica i suoi professionisti, cioè dice i miei hanno la laurea, faccio per dire, e hanno dieci master, i miei hanno solo la laurea e i miei non hanno neanche la laurea. Adesso sto un po' semplificando ovviamente la cosa un po' più complessa, però giusto per intenderci, quindi non c'è il legislatore che dall'alto stabilisce questo è l'ordine, c'è un obbligo di iscrizione, questa è la formazione, cioè diciamo che l'architettura del modello del nord Europa è ovviamente un'architettura un po' diversa, quindi con una libertà di nascere di associazioni e con una possibilità delle varie associazioni di qualificare i propri iscritti, quindi di porsi, quindi si crea una concorrenza tra le varie associazioni che in un qualche modo dicono i miei fanno questo piuttosto che fanno un'altra cosa. Questa legge tende un po' a ispirarsi a questo meccanismo. Allora, anche questa legge stabilisce che vi è la possibilità, la libertà di costituire più associazioni. Allora, attenzione, queste associazioni non sono le associazioni di categoria alle quali noi siamo abituati, cioè non sono le associazioni che portano avanti le istanze della categoria di natura, permettemi il termine un po' tecnico sindacale, diciamo così. Sono associazioni, la legge stabilisce espressamente che queste associazioni hanno una finalità predefinita legislativamente che è quello di valorizzare le competenze degli associati, garantire il risparmio delle regole ontologiche e agevolare la scelta e la tutela degli utenti. Quindi la legge immagina che ci possano essere più associazioni di web design, ad esempio, che dicono i miei web design hanno la laurea, i miei hanno fatto il corso all'estero, i miei invece sono dei semplici smanettoni, tanto per continuare a fare l'esempio di prima. Un altro punto cadene della legge, che in un qualche modo poi si interfaccia con quello di natura, diciamo con questa possibilità di creare le associazioni, è quella della previsione della possibilità, in un qualche modo, di dare delle indicazioni sulle professioni tramite le norme uni. Allora, attenzione, qui vorrei subito chiarire un dubbio che è sotto, subito dopo l'entrata in vigore della legge. Cioè le norme uni, queste norme uni non sono di obbligatoria applicazione, le norme uni non sono mai di obbligatoria applicazione, tranne che la legge espressamente non lo preveda. Qui si prevede soltanto che l'uni che è un ente di natura privata possa, diciamo così, emanare norme su queste materie, stabilendo modalità di servizio e modalità di comunicazione verso l'utente. Quindi questi sono i due punti cadene intorno ai quali si muove la legge. Allora, veniamo a quello che è l'aspetto, secondo me, fondamentale in questo contesto. La legge prevede delle esclusioni, cioè dei soggetti ai quali questa architettura non si applica e parla di professioni sanitarie e di attività e mestiere artigianali, commerciali, di pubblico esercizio, disciplina da specifiche normative. Quindi questi due, ce ne sono degli altri ma ovviamente non vi interessano, Queste due categorie, che sono quelle che vedete in rosso nella mia diapositiva, per queste due categorie non si applica la legge 4. Allora, sicuramente, diciamo adesso io qui l'ho inserito, sicuramente l'ottico, che oggi ha una sua disciplina per legge, è sicuramente esclusa dall'applicazione della legge 4, non c'è ombra di dubbio. Il problema invece si pone, e questo è un po' l'argomento di questa giornata, per l'optometrista. La domanda è, possiamo dire che l'optometrista oggi è una professione sanitaria? Sicuramente io, prima ho usato, consentitemi un pochino, sicuramente l'optometrista è tra quelle figure professionali, ve ne sono molte altre, io mi occupo di sanità in generale e vi posso dire che c'è una lunga serie di soggetti che, consentitemi il termine così un po' tecnico, sono aspiranti, diciamo così, professioni sanitarie, da intendersi come soggetti che, diciamo così, svolgono un'attività ovviamente attinente a quella, che non è medica, ma è attinente a quella sanitaria e che quindi, chi più ha ragione, chi ha meno ragione, da anni stanno svolgendo, diciamo così, hanno come obiettivo quello di ottenere una disciplina specifica che li qualifichi come professioni di natura sanitaria. Questa è la storia che voi ovviamente avete vissuto, che sapete. L'ultimo aspetto, e quindi, diciamo così, sotto un profilo strettamente giuridico, la linea di demarcazione tra l'applicazione della legge o meno è la qualificazione, che però ovviamente voi capite non può essere un semplice sentire, ma deve essere ovviamente una qualificazione di natura normativa, la qualificazione almeno all'interno delle professioni sanitarie. L'ultimo atto, che secondo me invece è molto importante, è questo. Resesi conto che ovviamente c'era questa problematica, come dicono, riguardo oggi soltanto voi come optometristi, ma riguarda molte altre figure professionali che comunque ritengono di essere professioni sanitarie pur non avendo avuto una disciplina specifica ex legge ad oggi. In realtà, in conferenza tra le regioni, il 2 di aprile, praticamente si è deciso di demandare al Consiglio Superiore di Sanità il compito di stabilire quali sono le attività che devono considerarsi rientranti nell'area sanitaria. Qui ovviamente ci si è perfettamente resi conto di questa problematica, cioè ci si è resi conto che ci sono moltissime professioni la cui natura è di tipo sanitario che non avendo oggi una disciplina specifica possono avere il problema di dire bene sono dentro o sono fuori, applico la legge 4 o non la applico. Quindi, in realtà, secondo me, è qui che bisogna lavorare, perché è da questo lavoro del Consiglio Superiore della Sanità che naturalmente uscirà questo, scusatemi il termine, elenco, cioè questo elenco di soggetti che effettivamente saranno considerate professioni sanitarie e quindi sono fuori dalla legge 4. Diversamente, quelli che non rientreranno qui probabilmente dovranno pensare che la legge 4 per loro si può, si deve applicare, è un'opportunità. Adesso esco dal ruolo di modellatore e faccio soltanto una piccolissima considerazione di natura personale da avvocato. Voi ovviamente avete una storia, l'ottico nasce all'interno dell'area sanitaria, non c'è un dubbio perché dentro il testo unico della legge sanitaria e su questo credo che non si discuta. L'optometrista ovviamente nasce come, perdonatemi il termine, upgrade dell'ottico e questo vi sono ovviamente più sentenze di corte di cassazione penale che dicono questo. Peraltro che si tratti di professione, io personalmente da tempo non ho più dubbi perché comunque anche quella dell'ottico vi sa che ci sono sentenze anche della corte costituzionale sull'odonto tecnico, ma che come sapete ovviamente è una disciplina analoga alla vostra. Ci sono ovviamente posizioni di natura comunità di cui ovviamente poi vi parlerò in maniera molto più approfondita, i torvelati che fanno rientrare, hanno una disciplina come sanitaria e quindi io credo realisticamente che ci siano tutti i presupposti di natura non soltanto diciamo così sulla valutazione dell'attività di area sanitaria, ma anche proprio giuridici, nonché storici, per poter effettivamente chiedere al Consiglio Superiore di Sanità di inserire l'optometrista all'interno di questi diciamo così chiamiamolo elenco di professioni sanitarie. Quindi questo come dico lo dico da avvocato e adesso mi rimetto i panni del moderatore, quindi credo che in realtà questa possibilità giuridicamente ci sia, però deve effettivamente svilupparsi all'interno di questo confronto che oggi è in corso, questo è il 2 di aprile, oggi ne abbiamo 27, quindi siamo veramente ai primi, alle prime battute, ai primi passi.